Revocati gli arresti domiciliari per tutti e sé gli indagati sottoposti alle misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta Earthquake sul presunto sistema di tangenti relativo alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo e in particolare nei comuni di Bussi-Sul-Tirino in provincia di Pescara e Bugnara in provincia dell'Aquila. Il GIP del Tribunale del Capoluogo Adriatico Gianluca Sarandrea questa mattina ha firmato la revoca degli arresti per Angelo Melchiorre indagato in qualità di responsabile tecnico del comune di Bussi e dell'ufficio territoriale per la ricostruzione numero 5 mentre ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza per Emilio Di Carlo direttore dei lavori e progettista degli aggregati 43-45 delle comune di Bussi-Sul-Tirino, per Marino Scancella architetto incaricato della progettazione dell'aggregato 30 del comune di Bussi, per l'imprenditore Umbro Stefano Roscini, per l'ex colonnello dell'esercito Giampiero Piccotti e per il tecnico ed ex consigliere del comune di Gubbio Angelo Riccardini. Per quanto riguarda Di Carlo Scancella Riccardini e Roscini il GIP ha disposto anche il divieto temporaneo dell'esercizio della propria attività professionale. I pubblici ministeri Anna Rita Mantini e Mirvana Diserio, titolari dell'inchiesta, avevano espresso parere negativo su tutte le richieste di revoca degli arresti, ad eccezione di quella a carico di piccotti che avevano avallato per motivi di salute.